C'è una cosa che non si... Io te ne ho detto tante cose, se ti ricordi. Eh, ma ora mi hai detto tanto non sarà mai possibile. E invece? Cantare con gli tilimani? Eh. Chissà, forse è possibile invece. Perché, lo sai? Metti un po'. Vedrà, vedrà, vedrà. Oh, nel cammino verrà Che non sei più da solo Camminando e contrarai Un gancho in mezzo al cielo Prendo sempre a me Tanto il tuo coraggio Oh, nel cammino verrà Che non sei più da solo Camminando e contrarai Anche tu gancho in mezzo al cielo E sentirai Farbando il tuo coraggio Vedrà il tuo amore Verrà Verrà Ehi! Venti le mani! Venti le mani! Adesso non capisci più di me! Venti le mani! Grazie Claudio! Orassio! Come stai? Sembro Gianni Minà! Orassio! Ciao! No, si chiamano Orassio a tutte e due Non è che lo dico a tutti Sta a vedere Cos'è? Come stai? Corghe! Come va? Claudio? Come va alla Sampdoria Bene, fa benissimo! Max! Ciao! Mandate i cartoni animati! No, io... Che meraviglia! Grazie per essere venuti Vi voglio dire davvero grazie Gli italiani sono fra le più belle persone Che abbia mai conosciuto nella mia vita Quest'anno...